Ciao, questo è un video per parlarvi di un acquisto Nabla. Mi è arrivato in questa confezione, ho preso praticamente i nuovi rossetti che hanno creato e ne ho presi tre qui dal sito di Nabla e uno l'ho preso in negozio dalle profumerie Pinalli che hanno lo stand proprio di Nabla. Allora, iniziamo con quelli che ho preso dal sito, che ho preso tutte colorazioni nude. Allora, ho preso il back bit, poi alla fine del video vi faccio vedere gli swatch sulle mie labbra perché adesso ve li swatcho un attimino sulle mani, poi alla fine del video faccio delle foto e vi faccio vedere sulle labbra che colorazioni sono. Allora, questo qui, il back bit, che sarebbe, perché hanno fatto di tre finish, io dal sito ho preso un rossetto per ogni finish, giusto per rendermi conto se hanno delle grandi differenze. Io non le ho trovate queste grandi differenze. Vedo che sono scorrevoli, più o meno simili, non sono, essendo opachi, non è che scorrono subito facilmente, però si riesce a metterlo tranquillamente. Io personalmente ho un rossetto tranquillo da portare tutti i giorni, scelgo questi di Nabla perché sono tranquilli e non danno nessun problema. Allora, questo qui che vi mostro per primo, proprio sulla confezione, adesso spero di non riuscire a trogliere il riflesso, Soft Touch Lipstick. Allora, questo qui, questo è il pack che ha delle foglioline disegnate ed è un po' molto specchiato. Allora, questa colorazione sarebbe... Sarebbe questa qui, questa è la colorazione di questo rossetto. Il taglio è fatto così, praticamente, perché anche oltre ad avere dei finish scritti diversi sulla confezione, anche i tagli di ogni rossetto sulla punta sono fatti diversi in base al finish. Allora, questo taglio è fatto qui e poi anche qui è un po' tagliato. Adesso, avendolo utilizzato, questa parte se ne è un po' andata, però anche qui è tagliato ed ha un po' di taglio. E questo è il primo, un nude che veramente porto spesso ed è questa tonalità ed è molto 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 bello. La seconda tonalità di nude che vi faccio vedere è questo Lush, Lust. I pack sono solo tutti uguali. Questo Lust fa parte dei Bunch Matte Lipstick. Adesso vorrei farvi... Vedete che c'è scritto qui sulla confezione Bunch Matte Lipstick. Allora, questo rossetto è tagliato quadrato. Vedete che ha la punta squadrata, non è a goccia come gli altri. E ho sentito dire che a qualcuno dà problemi, a me non ha dato molti problemi. A parte che la mia colorazione è un nude, per cui se sgarro anche un po' un nude è sempre più passabile di non vedere imperfezioni. E questa è la tonalità di questo Lust. L'ultimo nude che ho preso si chiama Lover's Lip e fa parte dei Super Matte Lipstick. Questo qui e questa tonalità è fatta così. Questo invece ha il proprio taglio a classico a goccia. Ed è questa tonalità che adesso ve la swatcho qui sulla mano. Che anche questa qui la porto... Dove si sceglie ne uno non saprei quale, perché come vedete questa qui è la tonalità dell'ultimo. Come vedete ho scelto tutte tonalità molto naturali, che giorno dopo giorno nessuno mi annoia e sto tranquilla. In questo periodo mi piacciono le tonalità nude. Le trovo più portabili di un rossetto fucsia rosso. Cioè più portabili, nel senso che anche mettendolo, se si sgara un po' anche adesso che ho su un nude, si... anche se eventualmente ho sbavato un po' o cosa, è meno complicato di avere un rossetto rosso che c'è più la necessità di lavorare di precisione. Allora ho scelto questi tre per finire l'ultimo rossetto che fa parte dei Soft Touch Lipstick. Si chiama Party in Paris ed è colorato. Questo qui è l'unico rossetto di questa collezione che ho preso che ha una nota di colore. Il taglio di questo è come il primo che vi ho fatto vedere. C'ha questo taglio sopra che è a goccia, poi qui sul lato è un po' intagliato. Adesso non so se riesco a farmi capire, perché anche questo qui l'ho un po' utilizzato, per cui spero che si possa notare. E vi faccio vedere la colorazione di questo. E questa è l'unica nota di colore che ho preso. Questi sono i quattro rossetti che ho preso della nuova collezione di Nabla. Mi stanno piacendo, li utilizzo quasi tutti i giorni. Non durano ai pasti, ai pasti vanno via, però tenete conto che sono nude, per cui si nota e non si nota. Io se sono in giro me lo rimetto, perché me ne accorgo che manca. Però è un rossetto tranquillo, sulle labbra non mi danno fastidio. Se esagerate un po' nel metterlo qui all'interno, tendono a fare un po' di patina tutti e tre le formulazioni. Quando il rossetto si, io lo chiamo che si ha mucchia qui e si ha quei granelli di rossetto o quella riga qui. Però una riga a me, sulle mie labbra, non mi fa mai una riga completa. Di solito sono qui sui lati delle labbra, specialmente sulla parte sotto, che mi si crea un po' di quella riga in cui il rossetto è come ammucchiato. E non è molto carino da vedere, diciamolo. Però da portare tutti i giorni, se si vuole un rossetto da mettere su, quell'ora, due, tre, se deve un attimo uscire, per me vanno benissimo. Il loro costo non è eccessivo, mi sembra sulle 13-14 euro. Per cui è un buon prodotto a prezzo, a un prezzo contenuto. Per cui sono anche, non so se siano, adesso non mi ricordo quale delle tre texture che non vengono considerati vegan, però di base sono prodotti che vengono considerati vegan. Sto guardando sulla confezione se è scritto, se è indicato qualcosa, però entrambi hanno soltanto, eccoli qui, adesso probabilmente non so cosa che riusciate a vedere dall'inquadratura, però questi qui sono Cluenti, Fli e Vega, questi e questi, che sarebbero i Super Matte Lipstick, sono allora Cluenti, Fli e Vega, i Bonch Matte Lipstick pure, mentre l'unico che non viene considerato Vega, sono i Soft Touch, questi sono gli unici che non vengono considerati Vega, che qui nell'angolino lo trovate scritto, trovate scritto soltanto la scritta Cluenti, Fli e basta, mentre negli altri c'è l'aggiunta della scritta Vega. Vi ho fatto vedere questi rossetti, per me è un buon prodotto, sono contenta di averli presi, anche perché le tonalità mi piacciono molto. Di Nabla avevo provato già i rossetti liquido, che infatti è uno di quelli che ho addosso adesso, è sempre di Nabla, che è il Romanticide, che faceva parte delle collezioni natalizie, della collezione natalizia. Li porto volentieri, sono meno pesanti di altri rossetti, per cui secondo me sono un ottimo prodotto. Non costano eccessivamente, perché rispetto ad altri rossetti hanno un prezzo contenuto, per cui secondo me sono un ottimo prodotto. Ok, per questo video vi saluto, ci vediamo la prossima volta. Ciao!